E' molto italiana questa storia del decreto con cui dovrebbe essere chiusa la Lombardia. Un decreto che ancora non è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale perché in realtà è una bozza di decreto, una bozza di decreto governativa che contiene delle indicazioni assolutamente confuse, chi ci capisce qualcosa è bravo, e per di più contiene anche dei refusi. Sostanzialmente una fuga di notizie su un provvedimento che dovrebbe essere grave e gravissimo, un provvedimento di cui neanche in regione, in Lombardia, hanno capito alcunché. Neanche i consiglieri regionali della Lega, del partito dunque, del governatore della regione Lombardia, sanno dare risposte sul significato di alcuni passaggi di questa bozza del decreto.